Oggi su Minecraft nella Big Vanilla ci scontreremo in una caccia al tesoro Saremo praticamente, eh, quattro squadre Queste squadre sono capitanate da BINGU No no Qua BJ Steph E NICO E il premio, il premio dei premi Saranno 64 diamanti Vabbè, nel caso li rubiamo agli altri E nulla, se volete altri eventi di sto genere nella Big Vanilla ragazzi Lasciate un mega pollicione in su ed iscrivetevi al canale Possiamo iniziare Guardate come sono tutti pronti, ben carichi Guardate che sguardi da te fini che c'hanno Ok, il primo che apre la gesta dovrei essere io, giusto? Dì, yes No no no, l'ho toccata, giuro Come via? No, no no, subito Come via? Raga, no Vai, leggi, leggi È stato spizzer, raga, è stato spizzer No, 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 ho perso la gesta, spizzer Zitto, nessuno ha visto niente Ci siamo? Siete pronti? Siete carichi i voli? Sì, sono mia Come via? Allora, ok, è stato lui a dirlo Vai, leggi, leggi Ok Raggiungi la torre più alta d'osservo attorno a te La torre più alta? La torre più alta? No Andiamo Non è quella di Marce, è quella là che qual è? Stanno andando tutti là, quindi Vabbè, stiamo con la massa Allora, io sinceramente non so come si ci arriva Se avete un drago, lo potete utilizzare Io seguo il team di Steffo Vi fributo, vedete qua Vi fributo Li seguo, li seguo Oh, non si colpisce Di qua, di qua, di qua Altro che caccia al tesoro qua Non ci posso credere Ci sono delle coordinate 1222, 846 1222 Ok, allora aspetta 22 però, eh 22? 22 Aspetta Da che parte si scende a questa torre? Aspettate ragazzi, ma dove siete? No, no, tuffatemi È troppo alto, è troppo alto, aspetta Dove chiamo? No, 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 no Ok, di qua, di qua Di qua, di qua No, no, meglio di no Forse è meglio di no all'inizio della caccia al tesoro Ci sarà dell'acqua in giro, no? Chi ha un secchio d'acqua? Perché lo riesco a utilizzare? Eh, purtroppo Posso spingere o giù, Fer? Oh no Oh no Oh no, 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 no Minuto La gente sta morendo Siamo arrivati in casa No, raga, dentro l'acqua Dentro l'acqua, buttatemi Steph è morto Ma dove bisogna buttarti? Attimo, Steph Ho preso un po' di cose degli altri io 1222 846 mi sembra 846 In teoria è vero su casa di Buddy Mamma mia Allora, io non sono bravo alle caccia al tesoro Ve lo dico 846, 846 Andiamo di qua Ok Di qua, di qua, di qua, di qua E' morto, anche bella Ok, dove c'è la palude Esatto, la palude Come facciamo a seminare gli altri? Qualcuno ha un carro? No, Massimo Mi scambiamo davanti a noi Quindi non penso che li riusciremo a seminare Dici che sono tutti davanti a noi Allora te lo faccio vedere io La potenza dei pinguini Va bene Mi fido Eh, non ti fidare troppo Dove ci sono le canne a zucchero Venite completamente a sinistra Infatti ci siamo C'è Fabi Jack qua Ciao Fabi Ciao Fabi Ti do una patata Tieni Siamo qua Siamo tutti qua Siamo tutti qua Ci siamo tutti Ti ho metto una cesta Una cesta Ok, fammi leggere Indizio 2 Sono buone le canne da zucchero Vero? Ma queste cose che le ha scritte Steph Si fa di canne da zucchero Ma cosa dobbiamo fare? Vabbè Se sono buone mangiamocene Che ti posso dire? Ma non penso funziona così Credo rompiamole Vero? 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 Leggi qua Dove sto io 1149 1079 Questa caccia al tesoro L'ha inventata Steph Già lui sa Già lui vince 64 devente a lui Ma non ho l'anno Ciò che ci sia il punto interrogativo Sulla Y Mi fa pensare a qualcosa O super alto O super basso È vero Codarsi Eh sì Qual era 1149? 1079 Ok Capitan pinguino Eccomi Ecco Ma tu c'è una pizza No solo un biscotto Come ti permetti Vabbè Io intanto mangio la carne Ma i pinguini mangiano i biscotti? I pinguini mangiano di tutto Vero? Ah ok Qual è il cibo preferito dei pinguini? È il salmone In che senso? Ragazzi dove siete? Perché sto notte venendo tutti qua Ok qua sopra 129 1155 Sono le coordinate precise Siamo un po' indietro noi E' l'oree Yes È tutta tattica E' l'indizio E raggiungete l'inferno con coraggio Dentro troverete il prossimo indizio Inferno È nether Già se l'ho fatto visto Già se l'ho fatto visto Vabbè Siamo indietro Già se l'ho fatto visto Ok Lorenzissi ti vedo E' qua qua Ci siamo ci siamo ci siamo Perfetto Ho questo bella faccia Pecchiamolo Ti faccio lo spiego Vedi qua Basta che non mangiate me Abbiamo Siamo gli ultimi Tutti hanno preso il libro Come gli ultimi? Davvero? Dici Come? Esco Esco E' uscito il libro Usciamo Se l'ultimo indizio vuoi trovare Nella costruzione più alta Dove andare La mia per il tesoro Farai brillare La costruzione più alta Eh aspetta Ce ne sono tante alte Ma fuori? Raga ma è quella dove Stavo salendo prima io Sì allora so dov'è Quella cosa enorme là Ok Ma quella torre sottilissima In pietra? Esatto Ma quella è la mia Che fai mangiare? Sì sì l'ho fatta io Perché non sapevo che fare Allora ho costruito cose a caso E sono andato Ok Cosa di mare Di mare Di come ci si sale? C'è con delle scale Ci tieni dentro i biscotti Ci tieni? Sì dovrei nascondere delle cose Ma fortunatamente Non l'ho ancora fatto Eh fortunatamente Se no ti rubavano tutti Qualcuno si sta buttando giù Qualcuno è morto Stanno uccidendo tutti Ma che succede? Ti vanno a rubare l'armatura No dobbiamo arrivare alla fine Vabbè ma tanto sempre diamanti sono Aia 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 Effettivamente hai ragione Ma che mi picchia E' il trofeo di guerra Questa è la mia casa Ma che cosa volete? Ma perché l'hai fatta così in alto? Ma come si passa lì dentro la tua casa? Ho rompato l'armatura A marci E Debarco mi ha picchiato Ma quanto è asa? Sì ma dai Sto pentendo di aver costruito questa cosa Ma cosa la voletevi fare? Dai Ma prendete un asino violante di che noia E scendevo con l'asino Buttami il libro E se scendi te lo do Se scendi te lo do Ecco la mappa Tenete Ve l'ho zoppata E ti do anche il libro Corro nel cani da zucchero Dobbiamo finire con ste cani Ma che cos'è sta scusa? Sentite facciamo una cosa Perché stavo appurato Vai dammela 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 E controllala perché mi pare che sia verso di là Mi sa che siamo di nuovo ultimi Vabbè appena arriviamo li picchiamo Qua dietro di noi stanno sviso Nico Ehm Che è l'altro? Dobbiamo rallentare Questo è il quarto indizio Questo è il quinto E' l'ultimo L'ultimo Davanti a noi ci dovrebbe essere qualcosa Quello Quell'isola? Quella Sì Beh è casa di Xiao Ah ok Stanno scavando tutti qua Venite Vuol dire che ancora non hanno trovato niente No perché sta sotto Ok Allora Correte 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 Da sotto andateci Da sotto Ho trovato una cavanna Aspettate Oh c'è un po' di c'è 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 dentro Ah no Come si Ah Mi sa che hanno trovato tutto Trovata Ma come è trovata Sto assedendo giù Ragazzi Facciamo così Ho fregato il piccolo di davanti a Marci Ma per lo stesso Dai Premo di consolazione Sperchiamoci l'armatura di Marci Se volete ve la do Dai Intanto noi lo abbiamo Ahia Perché mi colpiscono Giuro Non l'ho rubata io Quale era l'ultimo sangue Ahia Ma cosa ho fatto di male Aiuto C'è il pollo che mi picchia Pingu risale Che fai giù Ragazzi Ragazzi no Venite con me Dai Premo di consolazione L'armatura di Marci Spartiamocela Venite con me Venite con me Venite con me Vai Andiamo via Silenzio Ma come si scende da sta cosa Allora Shift Shift Oh Una spada in diamante Dele gambiere Un elmo Una corazza Gli stivale Un altro piccolo Una cosa a me Quasi sotto io Ok io ho I piedi Bellissimi Ok io ho il piccolo Di avanti Anch'io Anch'io Voi che mi siete Messi Eccomi Guarda Guarda che bei piedi Che ho Bellissimi Mi piacciono i piedi Di Marci No no Perché Lore mi ha ammazzato Allora 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 Io arrivo su quella torre E tutti mi picchiano Ho detto vabbè ma ti puoi ammazzare la gente Allora Poi l'ha detto Mark No non puoi ammazzare Ma come mi picchiavano Allora ti ho riportato lì Perché ho detto vabbè Ragazzi possiamo essere sinceri Per favore il nostro team Possiamo dire cosa abbiamo fatto Eh dillo No No Non si dice Si guarderanno il video Lo sapranno Vabbè ma non è così grave Abbiamo visto che siete entrati Nel nether Il terzo indizio Non l'abbiamo mai usato No Allora Non vale Si può fare Ma dove abbiamo messo No È uguale Si rifà Noi diciamo Ti faccio Io mi dissocio dal mio team Ma io pensavo Il terzo si trova Non il quarto Comunque Lorenz mi ha rubato tutto il loot Ed è scappato Cosa? Cadro Ti giuro Ti giuro Ti ho fatto io Muoio Vado a riprendermi il loot Vabbè quello è il suo premio Vabbè quello è il suo premio Vabbè quello è il suo premio Vabbè Almeno ha vinto qualcosa anche lui Esatto Si ha visto che stavo perdendo Il giusto Mi riporto qualche morto Scandaloso Ti ha guadagnato qualcosa Pagherai una conseguenza Pagherai una conseguenza